Con l'avvento di Raffaele Biancolino in panchina, i numeri difensivi dell'Avellino sono cambiati radicalmente. Nelle prime cinque giornate, con Michele Pazienza sullo scranno bianco-verde, i Lupi hanno subito sette reti. Con l'arrivo del Pitone, un solo gol nel finale, in occasione della partita vinta per 2-1 contro il Foggia in casa. Il passaggio alla difesa a quattro, con il ritorno di Rigione, autentico leader, autore del gol che ha permesso di sbloccare il match contro la Juventus Next Gen a Biella, ha permesso ai Lupi di trovare un equilibrio difensivo diverso. Analizzando dalla sesta alla decima giornata, i numeri delle prime dieci in classifica, solo il Benevento Capolista ha subito un gol come i bianco-verdi. Il Monopoli di Colombo ha incassato due reti, tre invece per Catania, Picerno e Trapani, cinque gol subiti, dal Cerniola e tutti nell'ultimo match contro il Trapani e dal Giuliano di Bertotto. Nel lato sinistro della classifica, Male Potenza con sette gol subiti e Sorrento che di reti ne ha incassate otto. Il difensore bianco-verde più presente è Patrick Ricci, con nove partite giocate, 652 minuti da Nellati. Anthony Giannarilli è secondo per numero di volte con la porta inviolata nel Gione C, cinque occasioni senza subire gol, quattro con la nuova gestione. Al pari di Nunziante del Benevento, Marconi della Turris e Zanellati della Casertana, meglio solo Vitale del Monopoli e Saracco del Cerignola con sei.